E' il fratello minore del più famoso Giacomo. Comincia a cantare da bambino entrando nel coro parrocchiale. Dopo aver perfezionato la voce, esordisce a soli 15 anni nel 1950. Debutta come attore nel 1954 in una compagnia di rivista accanto a Nino Besozi e nello stesso anno, partecipa al film L'oro di Napoli di Vittorio De Sica. Qualche anno dopo viene scritturato da Garinei e Giovannini in una delle loro famose commedie musicali, L'adorabile Giulio, con Carlo da Porto e Deglia Scala. Dotato di una voce calda ed estesa, simile a quella del fratello, raggiunge la popolarità al Festival di Napoli 1959 con il brano Primavera. L'anno precedente aveva interpretato il film musicarello Sorrisi e canzoni al fianco di Maria Fiore. Nel frattempo lascia l'etichetta discografica Vis Radio e passa alla Philips. Nel 1960 si aggiudica il Festival Internazionale di Firenze con il brano Rondini Fiorentine e prende parte alla sei giorni della canzone con il motivo Olimpia in Rome. Nel 1961 giunge in finale a Canzonissima con la celebre canzone Santa Lucia. Nello stesso anno debutta al Festival di Sanremo con la canzone E che freddo. Eseguita in abbinamento con Edoardo Vianello. Nel corso della sua carriera ha inciso dischi per l'etichetta Italbit, Ello, Fontana, Vis Radio e Philips. È tuttora attivo ed effettua numerose serate all'estero. Soprattutto in Canada e Stati Uniti. Le sue tre figlie hanno seguito la vocazione artistica di famiglia. Clelia è attrice. È stata anche al fianco di Massimo Troisi in Le Vie del Signore e sono finite. Mentre Amelia e Francesca hanno formato un duo chiamato per l'appunto Le Rondinella. Si è anche dedicato all'attività di discografico. Fondando e dirigendo la casa discografica Ello. Per cui hanno inciso tra gli altri Mario Merola, Angela Luce, Mario Trevi e Giulietta Sacco.